Siamo Ex-Inition Rebellion e oggi, come in tantissime altre occasioni, ci ribelliamo all'inazione dei governi che non si stanno dimostrando all'altezza di affrontare la più grave crisi che l'umanità si è trovata a fronteggiare. Oggi abbiamo messo in stato di emergenza il Palazzo del Consiglio regionale perché è quello che ci aspetteremmo dal Consiglio regionale in questo momento. Lo che chiediamo al Consiglio regionale e alla Regione Piemonte è di comunicare in modo capillare, in modo trasparente e in modo completo a tutta la cittadinanza la gravità della crisi climatica ed ecologica. Le azioni devono essere molto significative nel decennio che viene, le riduzioni devono essere drastiche rispetto alle emissioni di inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli preindustriali. È questo il momento di agire e non è nel futuro, neanche nel futuro prossimo, è ora. e chir failo e corrupto e vorrezcontinare